Dove sono tutti i gufi, i gufetti dei boschi, erano appollaiati sopra i loro divani. A guardare la tv, per vedere che ci sei tu, noi andiamo a Berlino, voi sul comodino. Ultima chiamata ragazzi, la gufata più difficile dell'anno. Sembrerebbe la più facile perché la Juve gioca col Barcellona, nei fenomeni, però diventa la più difficile una gara secca. E quindi tutti i gufetti, i gufoni del mondo, altri giuvettini, sono lì già nel bosco di Berlino, nella forestona. Non c'è più una camera, tutte perrotate dai gufi. Ma forse la facciamo franca in questo giro. Arrivati fin qui, arrivati fin qui, la vogliamo alzare così.